Nostro compito è di cercare di aiutare le comunità a valutare la propria resilienza e la propria vulnerabilità sociale, un lavoro che è già stato sviluppato per le protezioni civili del Baltico all'interno di un progetto precedente della Commissione Europea, ma che cerchiamo questa volta di calare nel contesto locale legato alla Liga del Moncenisio. Il progetto darà come risultato uno strumento automatizzato che permetterà ai sindaci e alle persone collegate ai meccanismi di protezione civile di valutare qual è la capacità di una comunità di ricostituire una normalità di fronte a un evento naturale catastrofico.